Il video con Capitan Blazer era l'ultimo della serie di quello dei diciamo dei dissing come vengono chiamati agli altri youtuber in realtà dove io dimostro delle falsità o delle cose che non sono proprio così come vengono detti di essere eccetera eccetera Ma, ma il signor Aiden a quanto pare non gli è bastata la prima spentona ne vuole un'altra, va bene Tanto che ha fatto un video chiamato Capitan Blazer pura fibra italiana ecco cosa penso dove in realtà non fa altro che parlare male di me Si vede che gli brucia per la roba del supporto a un creatore, gli brucia proprio tanto, ma si vede, si vede Oltre al fatto che dice delle robe completamente assurde, come si dice sempre in questi casi io questo video non lo volevo fare Nel senso che io per me avevo chiuso, avevo detto tutto ciò che c'era da dire su Aiden ma siccome dice stupidate Bisogna assolutamente sfruttare questo materiale per fare un altro video da 10 minuti pieno di pubblicità e guadagnare un sacco sul suo nome Perché chiaramente io faccio un video, io che ho 225.000 iscritti su un canale di 40.000 iscritti per sfruttare il suo nome Chiaramente Ma a parte questo, il video è su questa schermata tutto il tempo perché lui non sapendo editare e riprendendo direttamente con la roba della play Non sa fare molto e quindi in pratica non sta, non fa altro che parlare per tutto il tempo mentre è fermo lì sullo schermo Boh, ma andiamo ad ascoltare quello che ha da dire e vi ricordo prima di iniziare di supportarmi come un creatore dello shop con il coach e opti pfi Così Aiden impara a dire che mi spamo per un minuto e mezzo, vabbè Ascoltiamo, ok Perché lui non mi ha insultato È vero È vero E quindi ci sta tutto Io non ho insultato Aiden, io ho semplicemente parlato della falsità dei video che fa E lui al posto di difendersi dal fatto che sì, è vero, sì, rispondo a queste accuse in questo modo No, lui si difende parlando di tutt'altra roba Perché ricordatevi che quando voi dite a una persona un suo difetto Quella persona cercherà di sviare tutta l'argomentazione puntando a un altro difetto di voi stessi Quindi in pratica io gli ho detto guarda che tu fai ste robe e sono fake Lui al posto di difendersi dire no, non sono fake perché e spiegare perché No, lui sposta l'attenzione su qualcos'altro Tipico della gente che Allora, questa è una roba da stupidi idioti Perché purtroppo la gente usa la parola dissato a caso Significato di dissare Allora, leggiamo qua Il termine dissare nasce la parola in inglese dissing o disrespecting Che tradotto significa mancare di rispetto Come hai detto tu a inizio video io non ti ho insultato Io ho parlato della falsità dei tuoi video là Eccetera 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 Tra l'altro Jessica Nigri cosplay Fighissima, la tipa più figa che esista secondo me Ma vabbè non capisco perché sia lì A parte questo Io non ho dissato assolutamente nessuno Io non ho mancato di rispetto assolutamente a nessuno Io ho detto cose vere Le ho dimostrate facendo vedere in video quello di cui stavo parlando Eccetera eccetera Non ho dissato nessuno Dissare significa Aiden è un figlio di Non l'ho detto Andiamo avanti Anche a me E quindi parleremo di tutti questi dissing messi insieme E vi dirò la mia Il mio parere Cosa ne penso Ok Profibitaliana ha dissato Sykes Dicendogli che lui porta video completamente falsi E clickbait Dicendo che tutti i suoi video durano la maggior parte Più di 10 minuti E tutti sono riempiti con pubblicità Certo Ok ragazzi Lui ha detto questo Profibitaliana ha detto questo Che sono delle cose un po' non colpevoli Cioè lo scopo del video contro Sykes Non era di dire Eh lui fa i video da 10 minuti Pien di pubblicità clickbait Assolutamente no Io ho parlato delle robe dei contest fake Del contest dei cavalieri neri fake Del uso del codice supporto a un creatore Completamente in maniera tarlocca e fraudolenta Ho parlato delle skin concept Spacciate per skin vere Ho parlato della falsità del Eh della skin dell'iPhone Che si vedeva palesemente Che era una skin Eh incollata sopra Cioè io ho parlato di ste robe qua Non ho focalizzato il video Sulle cose che sta dicendo lui Ossia sul fatto che Faccia i video da 10 minuti Io ho detto Lui fa i video dove vi frega Ma per guadagnarci ancora di più Mette giù i video da 10 minuti Pieni di pubblicità eccetera Per dissare Sykes Benissimo Innanzitutto partiamo con la prima cosa Profibitaliana ha detto che Sykes Fa durare i video più di 10 minuti E questo l'ha detto sia per Capitan Blazer E sia contro di me E l'ho detto per tutti Lo dico anche per me stesso E per chiunque altro Quello che io critico È che i canali fake Facciano i video da 10 minuti Andiamo avanti Si è diventato di questa cosa qui Contro tutti e tre youtuber Sfalso Contro Blazer no Lui è il primo a farlo Quindi lui si lamenta di una cosa Del quale Comunque la pratica Cioè tutti i suoi video Durano più di 10 minuti E combinazione Sono tutti riempiti di pubblicità E inoltre a me ragazzi L'italiana Se andate a vedere il video Che ha fatto contro di me Dice anche che io In tutti i video All'inizio C'è una clip Di un minuto e mezzo Dove mi spammo Meno supporto a un creatore E io dico che lui si spamma Supporto a un creatore sempre Ok Ok siamo a un minuto e 15 Dopo la intro Siamo a un minuto e 15 Dove lui dice le stesse cose Ossia unitevi al gruppo telegram E qua fa vedere un'immagine Veriterissima Dove tutti i vbucks Sono a 0 euro E poi Il supporto a un creatore Diciamo per i primi 30-40 secondi Ok Cioè ogni video Vediamo quest'altro Guardate Guardate E arriviamo a un minuto e 15 Che la intro finisce Vediamo questo Cioè andate a vedere Qualsiasi video Di Aiden vecchio Qualsiasi E ditemi In che video Lui non parte Con questa intro Oh che strano Che strano Vediamo Oh ma Ma siamo ancora qui Oh ma E ascoltiamo Cosa dice il suo video Ok ragazzi Innanzitutto Beh è normale Quando un youtuber Supporta un creatore È normale Che se lo spammi Come del resto Fanno tutti È vero È giusto Ho il coach Supporta un creatore Ve lo dico Ma ve lo dico una volta Di tanto in tanto Appare in basso a destra La schedina Con inserite il coach Creatore Fine E comunque si affa anche Pura più italiana Perché in tutti i video Pura più italiana C'è una clip Di un minuto e mezzo Dove spamma Il suo supporto a un creatore Io vorrei vederla Sta clip Cioè ragazzi Lui a quanto pare Sa cose del mio canale Che io non so Cosa faccio io Col supporto a un creatore Primo Primo Lo scrivo qua sotto Secondo Lo dico A inizio video Una volta E poco Quindi Parlo del video Tipo Insieme ad Alex Ed Ero Qua ho presentato il video Ok Ho detto che cosa si farà nel video Dopodiché dico Fine Cioè ci ho messo Quanti secondi a dirlo Guardate E vi ricordo che se volete E vi ricordo Da 0,26 A 0,32 Detto ciò Buona visione A me questi sembrano 5-10 secondi al massimo In cui dopo Per tutto il video Comunque C'è solo l'immagine qua Che non è che dia Un fastidio enorme Perché è come la webcam E di tanto in tanto Appare questa iconetta qua Questa iconetta qua E se voi contate Quante volte appare Appare in media Tre volte a video Tre volte a video Una ogni tre minuti Quindi comunque Non dà fastidio Appare in momenti Dove comunque Non è importante Quella parte di schermo Eccetera Ma io non ho mai fatto Clip da un minuto e mezzo E siccome lui dice Che io le faccio sempre Vorrei vedere Quale sia questa Clip da un minuto e mezzo E in caso contrario Se qualcuno di voi Dice se non è vero Stai dicendo Infatti Non è vero Basta che andate a vedere Il video di Captain Blazer Che ha fatto contro Oppure la fibra italiana Dice le stesse cose Che penso E che sto dicendo io Non ha mai detto Che io faccio una clip Da un minuto E da un minuto Che faccio una clip In ogni video Per spammarmi Il sport è un creatore Mai detto Una roba del genere Blazer Quindi sta dicendo Quindi di conseguenza Gli altri Non possono Assolutamente portare Fortnite E copiare E fare un gameplay Di Fortnite E copiare Non va bene Non ci vedo differenza Cioè D'ora in poi Nessun altro youtuber Può portare gameplay Secondo questo ragionamento Innanzitutto Una cagata Perché Captain Blazer Ha mostrato nel suo video Le chat E il vero è che Pure la fibra italiana Che ha copiato le cose A Captain Blazer In realtà no Non mostra assolutamente Nulla riguardante Le copertine copiate E anzi Lo mostro io Nel video Di dove Diciamo Ho spiegato Perché abbiamo fatto pace Eccetera Infatti ci sono anche Le chat Dove le mostra Nel suo video Se lo andate a vedere Comunque ci sono tutte le prove Lui sta continuando A mettere in bocca A Blazer Cose che non ha mai detto Vabbè A quanto pare Aiden ha problemi Di comprendonio Nel capire le cose Che dice Blazer Nel suo video Di pure la fibra italiana Vi dico Cosa ha intenzione Di fare Ma perché parla Tutto il tempo di me Ma non era un Captain Blazer E pure la fibra italiana Ecco cosa penso Sta parlando solo di me Si vede che gli brucia proprio E quali sono le sue intenzioni Ve lo spiego io Allora ragazzi Il suo canale Ce lo spiega lui Cioè lui sa le mie intenzioni Ce le spiega lui Attenzione Ma adesso no Perché ovviamente Sta facendo questi video Che sono completamente clickbait Lui dice Lui insulta gli altri youtuber Perché Fanno i video clickbait Ma lui è il primo A fare i video clickbait Io insulto gli altri youtuber Perché fanno i video clickbait Questa è la frase Più bella in assoluto Che io abbia mai potuto sentire Allora Ascoltate cosa dico nel mio video E io lo so perché a voi non piace Perché è clickbaitissimo Con le copertine Con i titoli E sinceramente A me non dà fastidio Lo fanno praticamente Tutti gli youtuber Perché ormai nel 2019 Su youtube O lo fai O non vai avanti Quindi È una cosa che È sbagliata Ma va fatta Cioè Quelle cose che Vengono comunque Cioè devono essere fatte Chiaramente ci sono youtuber Che lo fanno in forma più leggera C'è chi lo fa in forma più pesante Ma il clickbait Al giorno d'oggi È l'essenziale È la ricetta segreta È la formula magica Per andare avanti su youtube Quindi Quindi io sono d'accordo Al clickbait Ok Lui dice che io non sono d'accordo Io veramente Io penso lui abbia problemi Di comprendonio A capire le cose Che uno dice Queste sono le visualizzazioni Negli ultimi 30 giorni 2,5 milioni Ok I video contro gli altri tuber Vediamo quante visual hanno 300.000 Quello di blazer Più 200.000 Quello di scuse Quindi 500.000 E dai 2,5 milioni Siamo a 2 milioni E poi la falsità di Sykes 100 milioni Quindi siamo a 1,9 milioni Di visual A parte Questi tre video qua Contro gli altri youtubers E voi direte Eh ma c'è anche quello di Aiden Che però è stato fatto un mese fa E che ha 120.000 views Quindi comunque Un mese fa È più di 30 giorni fa Ma a parte questo Facciamo conto anche questo Ok In totale sono 120.000 230.000 530.000 730.000 Ok Rimangono 1,8 milioni Di views Da altri video Quindi In realtà Questi qua Non è che sono video Che che Oh Hanno rivoluzionato il mio canale Dopo queste views Basta Il mio canale è esploso Solo grazie a questo No Perché comunque io facevo Tante views lo stesso prima 1,8 milioni Rispetto ad Aiden Che ne fa Vediamo un po' Aiden ne fa 170.000 Cioè Meno del video Di scuse contro Blazer Quindi boh Veramente Altre robe stupide Che dice Tutti i video fa le stesse cose Di cui si lamenta Che lo fanno gli altri Cioè gli altri Non lo possono fare Ma gli può Fatemi capire questa cosa È difficile farti capire le cose Perché io dico una roba E tu ne capisci un'altra Io sono responsabile di cosa dico Non di quello che capisci te Però te non capisci niente Non l'ho capita Ma comunque Andiamo avanti Che strano Una delle tante che non hai capito Da Captain Blazer Ci sono anche le prove Nel suo video Fatemele vedere Fammi vedere Di cosa stai parlando Veramente ragazzi Una persona così falsa Io non l'ho mai vista Bastava guardarsi allo specchio bro Non me ne frega niente Questa è la verità E io so Per certo Al 100% Che è la verità Siccome lui sa Che questa è al 100% La verità Allora è di fatto così Cioè L'onniscienza La conoscenza È tutta sua Se lui dice Che è la verità È così Fine Oh Il video si chiama Captain Blazer Pure per l'eleana Ecco cosa ne penso Non ha fatto altro Che parlare male di me Per tutto il video Ma si sente proprio Che gli brucia Sapete perché non capisce un tubo Perché adesso lui userà Le stesse identiche parole Che ho usato io Dice Ormai nel 2019 L'unica cosa che si fa Per crescere È il clickbait È giusto farlo È la formula magica Stesse parole che ho detto io Prima e vi ho fatto vedere Ascoltiamo Questa mi ha fatto spaccare Questa parte Ragazzi ma su youtube Se vuoi crescere Vuoi andare avanti Se non fai video clickbait Non cresci E non vai avanti Tutti fanno video clickbait E è normale È una cosa È normale farla Infatti io non ho mai Criticato nessuno Per i video clickbait Assolutamente Mai Perché su youtube È l'ingrediente La formula segreta È fare video clickbait Ragazzi Riascoltiamo Ma io lo so Perché a voi non piace Perché è clickbaitissimo Con le copertine Con i titoli E sinceramente A me non dà fastidio Lo fanno praticamente tutti gli youtuber Perché ormai nel 2019 Su youtube O lo fai O non vai avanti Quindi È una cosa che È sbagliata Ma va Va fatta Cioè quelle cose che Vengono comunque Cioè devono essere fatte Chiaramente ci sono youtuber Che lo fanno in forma più leggera C'è chi lo fa in forma più pesante Ma il clickbait Al giorno d'oggi È l'essenziale È la bricetta segreta È la formula magica Per andare avanti su youtube Quindi Eh pur Fibri deliano Si lamenta degli altri Che fanno clickbait Boh veramente Io penso che lui non capisca Esattamente che cosa dico io La cosa bella È che Alla fine del video Lui per 10 minuti Ha parlato solo male di me Non ha mai parlato di Captain Blazer O di quello che ne pensa lui effettivamente Ha ripetuto Un milione di volte Cose sbagliate Ha messo in bocca A Blazer Parole sbagliate Se questo video è stato fatto così Io mi immagino quell'altro Che uscirà E che non vedrò l'ora Di rispondere anche a quel video Perché Mi fanno solo visibilità Views Money Soldi Sono miliardari ormai Infatti grazie a lui Mi comprerò la Lamborghini Finalmente Perché grazie al suo video Dove ho fatto 140.000 views No Io già avevo 1,8 milioni di views Ma quelle non contano Contano solo le sue 140.000 E mi sono comprato una Lamborghini Non ve l'ho detto Ci farò il video Adesso Adesso esco E ci faccio il video E niente dai Aspetto il suo secondo video Così mi compro anche la Ferrari Oltre a Lamborghini Aspetto proprio il secondo video Per farlo Pieno di pubblicità Oh sì Oltre a Lamborghini Oltre a Lamborghini Oltre a Lamborghini Grazie.